Allora, onorevole, era necessario essere qui oggi? Assolutamente, anche perché dobbiamo dire con forza che siamo contrari alle trivellazioni, che vogliamo un mare che sia lasciato ad un turismo consapevole e sostenibile. Lei rappresenta anche una parte giovanile del PD, ci sono tanti ragazzi oggi? Tantissimi, e questo mi fa molto piacere, vedo anche delle famiglie, ci sono tante persone che hanno capito che bisogna difendere il proprio ambiente, anche per lasciarlo a chi c'è dopo di noi. Cosa c'è da portare questa battaglia in Parlamento? Il Parlamento è anche in Europa, perché l'Europa deve capire che forse c'è meno bisogno di petrolio e più bisogno di energie rinnovabili e l'Italia deve dirlo con forza.